Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come in mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovranna regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. E così posso restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo volume 29 10 maggio 1931 Chi vuole ricevere deve dare modi che tiene Gesù. I doni divini portatori di pace. Come la divina volontà tiene la virtù fermentativa quale bene racchiude un atto compiuto di volontà divina. sono sempre nella cara eredità della divina volontà dovunque rivolga la mente il passo la trovo come regina imperante che col suo dolce impero vuole regnare sulla povera anima mia e con la voce più eloquente, soave e forte mi dice, ispirante d'amore da poter convertire in fuoco il mondo intero come regina ti aspetto in ciascuna opera mia perché tu venga a formare e stendere il tuo piccolo regno divino nelle stesse opere mie guardami, sono regina e chi è regina tiene il potere di dare figli suoi quello che vuole molto più che il mio regno è universale il mio potere è senza limiti e come regina amo di non essere sola nel mio regno ma voglio il corteggio, la compagnia dei miei figli e di dividere insieme con loro il mio impero universale perciò la tua via siano le opere mie che come tanti segni ti addiranno di fare tanti incontri con la tua celeste regina che ti aspetta per darti i suoi doni come pegno certo del suo regno onde mentre la mia povera mente si perdeva nella immensa luce della divina volontà il mio sempre amabile Gesù mi ha detto figlia mia chi vuole ricevere deve dare il dare dispone la creatura a ricevere e Dio a dare molte volte anche il tuo Gesù tiene questo modo quando voglio dalla creatura do e se voglio dei grandi sacrifici do molto affinché essa guardando il molto che ho dato si vergognerà e non avrà il coraggio di negarmi il sacrificio che le chiedo il dare è quasi impegnare la persona che riceve è attirare la sua attenzione, il suo amore il dare è apprezzare, il dare è speranza il dare è far sorgere nel cuore il ricordo del donatore e quante volte persone che non si conoscevano diventano amici per mezzo di un dono ora nell'ordine divino il donatore è sempre Dio che fa da primo a mandare i suoi doni alla creatura ma se essa non si muove a dare nulla al suo creatore fosse pure il suo piccolo amore la sua gratitudine un piccolo sacrificio perché se abbiamo dato e perché volevamo non più si spediscono da noi altri doni perché col non darci nulla la creatura ha chiusa la corrispondenza ed ha spezzata la bella amicizia che doveva far sorgere il nostro dono ora figlia mia dare e ricevere sono atti primi ed indispensabili che a chiare note additano che noi amiamo la creatura ed essa ci ama ma non basta si deve saper ricevere col convertire in natura il bene ricevuto col mangiarlo e masticarlo bene in modo da convertire il dono in sangue dell'anima è questo il nostro scopo nel dare i nostri doni voler veder convertito in natura il dono che abbiamo dato perché allora i nostri doni non sono in pericolo e ci dispongono a dare doni più grandi la creatura avendolo convertito in natura mette al sicuro il nostro dono ne resta posseditrice e sentirà in sé il bene la sorgente sentirà convertito in natura il dono ricevuto e siccome i nostri doni sono portatori di pace e di fortezza invincibile di aria celestiale quindi la creatura sentirà in sé la natura della pace della felicità della fortezza divina che formeranno in lei l'area del cielo ecco perciò la causa che quando ti faccio il grandono della mia parola dopo faccio silenzio è perché sto aspettando che tu ti alimenti e mastichi bene la mia parola in modo da vedere in te cambiata in natura tua ciò che ti ho detto e quando vedo ciò allora sento l'irresistibile bisogno di amore e di parlarti di nuovo perché un mio dono chiama l'altro ne sanno stare soli ed io tengo sempre da dare sempre da dire e da fare con chi converte in natura i miei doni dopo ciò stavo pensando alla divina volontà come mi sembrava difficile che venisse il suo regno ed il mio amato Gesù ha soggiunto figlia mia come il lievito tiene virtù di fermentare il pane così la mia volontà è la fermentatrice degli atti della creatura come essa chiama la mia volontà divina negli atti suoi così restano fermentati da essa e formano il pane del regno del mio volere ora non basta il lievito per fare molto pane ma ci vuole molta farina ci vuole chi deve compiere questi atti di unire farina e lievito ci vuole l'acqua vincolo di unione per poter impastare farina e lievito per fare che il lievito comunicasse la virtù fermentativa e la farina la ricevesse poi ci vuole il fuoco per cuocere questo pane per formarlo pane alimentare e digestivo ora non ci vuole più tempo più atti per formarlo che per mangiarlo il sacrificio sta nel formarlo a mangiarlo si fa subito e non si sente il gusto del sacrificio onde figlia mia non basta il lievito del mio fiat di vino che tiene solo virtù di fermentare i tuoi atti svuotarli dell'umano volere per convertirli in pane di volontà divina ma ci vogliono una continuazione di atti di sacrifici e per lungo tempo in modo che il mio volere con la sua virtù fermentatrice fermenterà tutti questi atti per formare molto pane tenerlo preparato e al riservo per i figli del regno suo quando il tutto sarà formato rimane da disporre agli eventi e questo è più facile si fa più subito perché sta il nostro potere muovere le cause seconde per fare quello che noi vogliamo non fece altrettanto per la redenzione i miei lunghi 30 anni della mia vita nascosta furono come il lievito in cui restarono fermentati tutti i miei atti per formare e fermentare il gran bene della redenzione la breve vita della mia vita pubblica e della mia passione fu il mio pane fermentato che la mia volontà divina formò e fermentò negli atti miei che come pane spezzai a tutti e diedi a mangiarlo per fare che tutti ricevessero il pane dei redenti perché potessero acquistare le forze necessarie per mettersi in salvo perciò non ti dare nessun pensiero pensa a fare il tuo dovere e non far sfuggire nessun atto in cui non ci metta il lievito della mia divina volontà affinché l'essere tuo resti fermentato da essa ed io ci penserò a tutto il resto onde continuavo a pensare ma che cosa ne ha Gesù di questo mio povero stato e perché ha tanto interesse che io cada nelle mie solite sofferenze con tanto disturbo e fastidio che mi fa dare agli altri che potrei chiamarlo il mio martirio o come è duro avere a che fare con le creature sentire per pura necessità il bisogno di loro questo mi umilia tanto che resto come annientata nel mio proprio nulla ma mentre ciò ad altro pensavo il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia vuoi tu sapere che ne ho la mia volontà compiuta e questo è tutto per me un mio atto compiuto di mia volontà racchiude tutto il cielo il sole e la terra ed anche me stesso non c'è amore che non trova bene che non possieda gloria che non mi dà tutto resta centrato in un atto compiuto di mia volontà e la felice creatura che lo compie può dirmi ti ho dato tutto anche te stesso non ho più da darti perché la mia divina volontà racchiude tutto non c'è cosa o bene che le sfugge quindi compiendola in ciò che io voglio la creatura trova ciò che è in sé stessa la mia volontà ed io posso dire col darti la grazia di farti fare un atto compiuto di essa tutto ti ho dato anzi col compierla le mie pene sorgono i miei passi le mie parole le mie opere si duplicano e si mettono in moto per darsi alle creature perché la mia divina volontà operante anche nella creatura mette in moto tutte le opere nostre per farle sorgere la nuova è la vita e tu mi dici che ho figlia mia pensa a farla e fa che la tua vita possa essere un atto continuato di mia volontà bene bene amici non è la prima volta che Gesù affronta in questi scritti un discorso che non è altro che una glossa o meglio ancora sarebbe dire una spiegazione un'omeria di quei passi del Vangelo che non sempre sono molto percepibili in particolare quando Gesù dice a chi ha sarà dato a chi non ha sarà tolto anche chi ha la parte centrale di questa meditazione sviluppa e approfondisce proprio nei minimi dettagli questo punto che è un punto oltremodo fondamentale che ci ricorda sempre una verità che non dobbiamo mai dimenticare il rapporto con Dio è un rapporto a due certo che c'è lui certo che lui c'è il primato su tutto certo che tutto parte da lui certo che senza di lui non possiamo fare nulla tutto quello che vogliamo ma noi non stiamo dentro questo rapporto come soggetti passivi come soggetti inerti come soggetti che guardano e se mi si passa insomma questa espressione stanno seduti ad aspettare in continuazione la manna dal cielo senza come dire operare cooperare collaborare rispondere e corrispondere a ciò che il Signore ci dona e questo ovviamente non va bene amici miei qui Gesù oggi dice tante cose diciamo il senso di questa meditazione si potrebbe racchiudere con uno slogan grandi grazie chiamano grandi prove grandi croci e grandi prove grandi croci chiamano grandi grazie allora numero uno qui Gesù articola questo questo punto perché non c'è soltanto una linea di lettura univoca ma ci sono delle varie forme delle varie modalità di lettura di questo di questa verità Gesù parte da una che oggi come oggi è completamente spesso e volentieri dimenticata e seppellita e sepolta dietro quei concetti smierati svolcinati a volte ridicoli di quel Dio misericordioso e buonaccione che tanto ti dà ogni grazia ogni bene ogni dono qualunque cosa tu fai ma questo non è vero questo qui perché punto primo la stessa bontà e misericordia di Dio è ricevita ed efficace nei confronti di chi umilmente la invoca e si dispone a riceverla quindi non è che opera in automatico anche contro la volontà della persona cioè si assiste oggi veramente delle volte a delle stravaganze proprio delle storture che lasciano veramente senza parole cioè nella testa di più di qualcuno e ahimè di più di qualcuno anche che si trova nella casa di Dio quindi non dovrebbe avere la testa formata in questo modo che si trova nella casa di Dio ma purtroppo ce l'ha c'è l'idea che ma sì ma qualunque cosa uno faccia ma tu ti vuole bene lo stesso ma tu ti perdona ma ti pare che sta a guardare il capello le cose insomma no ma quello il perdono non lo vuole e non fa niente glielo dà lo stesso quello non lo vuole ma quello non si rende conto che c'è la vita eterna che ci stanno le cose quindi lui non si rende conto e ci pensa al nostro signore che figurati se permette un Dio così buono che uno possa dannarsi queste cose qui da medioevo cose del genere io non so chi ascolta questa meditazione ma dalla mia parte insomma di sacerdote e di parrochi nella mia vita sacerdotale ho fatto solo il vice parroco e il parroco non ho fatto praticamente nient'altro salvo brevissime parentesi molto molto sporadiche ai tempi nei primi anni dell'ordinazione quando c'era Monsignor Petrocchi che aveva una certa stima insomma di me che mi chiese di insegnare un po' di teologia nella scuola di teologia della diocesi insomma che adesso poi dopo tante vicissitudini ha cambiato statuti eccetera e mi mise come collaboratore in un ufficio cosa che è durata 4-5 anni insomma dopodiché io non ho fatto altro che vice parroco e parroco e quindi mi risulta questa cosa e questa mentalità è diffusa anche tra i fedeli anche tra i fedeli e a volte anche tra qualche fedele praticante cioè c'è c'è un libro di Martin Mosebach che io consiglio anche se è un libro un pochino complicatuccio che si chiama L'eresia dell'informe quindi c'è tutto c'è questa c'è questa atmosfera come dire nebulosa sfumata dentro questa atmosfera nebulosa sfumata come dire viene tratteggiata questa strana strana per come viene tratteggiata ovviamente no misericordia di Dio che tutto avvolge come una nebbia tutto copre ti piace o non ti piace lo voglio o non lo voglio e così punto e basta ma io dico queste stupidaggini oltre che non avere né capo né coda nella sacra scrittura ma insomma io dico la santa madre chiesa nel suo itinerario terreno evidentemente noi qui dobbiamo ragionare con le categorie terrene perché siamo ancora nel tempo della prova ma sono duemila anni che cammina ma io vorrei soltanto che qualcuno di questi scienziati mi trovasse una sola persona uno uno che fino almeno a 50-60 anni fa forse anche un pochino di più perché da 50-60 anni sono state sdoganate nel senso che si possono dire anche senza pericolo di incorrere nel santo uffizio ma facciamo fino a 100 anni fa quando hanno cominciato i distruttori a a martellare 120 facciamo dai facciamo con con la crisi modernista che fu cercata di essere stroncata fin dai tempi di San Pio X ma quando mai si è sentita una roba del genere insomma io non ho letto tutti i libri di Santi per carità non ho letto qualcuno ma da quelli che ho letto io non ho mai trovato niente stupidaggini del genere anzi si trovavano storie in cui c'erano esortazioni a offrirsi al Signore al sacrificio grandi preghiere grandi opere apostoliche grandi opere per amore del prossimo penitenze e sacrifici che se oggi uno le legge con la mentalità dell'uomo del ventunesimo secolo chi ha i capelli gli diventano tutti dritti o addirittura gli cascano magari perché rimane sconvolto a entrare in contatto oggi con certe cose eppure queste cose sono andate avanti per 1900 anni mica per una settimana 1950 allora chi vuole riceverle deve dare questa cosa era molto chiara pensiamo tutta quanta la fioritura nella chiesa della vita consacrata che cosa è la vita consacrata ma fin dai primi tempi le giovani le giovani bambine che si offrivano come vergine le donne che perdevano il marito che si offrivano come vedo c'era un ambiente dove tutti quanti dice ma i martiri magari il signore mi chiamasse al martirio ma da dove vengono queste cose chi vuole ricevere deve dare cioè è chiaro che il nostro dare al signore deriva già dal fatto che noi abbiamo una considerazione estrema di quello che lui ha dato a noi cioè dice un salmo che cosa posso rendere al signore per quanto mi ha dato ma se io gli dessi che cosa gli posso dare gli posso dare la mia vita moriamo martire e che cos'è gli posso dare i miei sentimenti gli posso dare la mia reputazione gli posso dare il mio onore che cosa gli posso dare la mia salute gli posso dare qualche piccola pena che gli offro qualche piccola penitenza che faccio ma che cosa gli diamo al signore in confronto a quello che lui ci ha dato eppure appena Gesù vede che tu gli dai qualcosa e non c'è offerta e sacrificio che lui non gradisca c'è stata cosa di gente che comincia a pensare ma io posso fare o non posso farlo e lo devo dire al padre spirituale per carità va bene ma oggi come oggi amici i padri spirituali lo stanno questi padri spirituali cioè se ti viene l'ispirazione di offrire un sacrificio al signore certo a meno che non sia una cosa insomma che ti va a mettere a repentaglio la vita o la salute quello è meglio che uno chiede consiglio se si tratta di cose esorbitanti no ma sono poche le cose di questo genere ma daglielo offriti offri offri e offriti perché se tu darai Dio ti darà a chi ha sarà dato dice Gesù a chi non ha sarà tolto anche quello che ha e il senso principale di questa espressione è questo cioè Gesù la pronuncia non il riferimento all'altra tipologia che adesso vedremo di di fenomeni no cioè Dio ti dà attenzione quando ti arriva una grazia aspettate subito una croce quando ti arriva una grazia grossa e più grossa è la grazia e più saranno le croci più grosse saranno le croci questo è sicuro questo qui a chi molto fu dato molto sarà chiesto cioè quest'altra cosa però a chi sarà dato si riferisce principalmente proprio questa cosa poi Gesù aggiunge anche il tuo Gesù tiene questo modo quando voglio dalla creatura do a chi molto fu dato però molto sarà chiesto e se voglio dei grandi sacrifici do molto affinché sta guardando il molto che ho dato si vergognerà e non avrà il coraggio di negrarmi il sacrificio che le chiedo quanto abbiamo ricevuto noi dal Signore e più abbiamo ricevuto più siamo tenuti a dare e dobbiamo dare 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 ma con gioia con gratitudine è brutto proprio un'anima taccagna nei confronti dell'altissimo piccina gretta meschina che sta a misura le cose con il contagocce ah messa la domenica però poi basta sono dato messa la domenica ho fatto il mio dovere adesso non mi comincia a levare la pelle che poi c'è deve andare pure qualche altro giorno in settimana no no per carità basta e avanza la domenica sto facendo un esempio tanto per dire una certa mentalità ed ecco la dinamica perché l'amore fondamentalmente è un donare è un donarsi è un dare è un stare attento a che la persona amata percepisca che io la sto amando attraverso quello che gli dono non è necessariamente spendere i soldi è una cosa materiale no gli posso donare un'attenzione una parola un riguardo una carezza un atto qui Gesù le dice le cose no non è che che devi fare chissà che cosa a volte è il suo piccolo amore la sua gratitudine un piccolo sacrificio va bene dagli questo se non ti senti se non sei ancora capace di delle grandi austerità dei grandi santi va bene ma qualcosa glielo dobbiamo dare al Signore anche se nell'ordine divino è sempre lui il primo mandare perché tu non donarresti niente al Signore se non ti avesse già lui molto donato questo sia sempre chiaro però Gesù aggiunge sì è sempre Dio il donatore nell'ordine divino il primo ma se essa non si muove a dare nulla al suo creatore fosse pure appunto il suo piccolo amore la sua gratitudine un piccolo sacrificio perché se abbiamo dato e perché volevamo non si spediranno da parte nostra altri doni perché la creatura con non darci nulla ha chiuso la corrispondenza e ha spezzata la bella amicizia che doveva far sorgere il nostro dono ecco cari amici allora mentre leggevo questa cosa a me veniva in mente un episodio che cito molto volentieri anche perché le grandi sante le grandi mistiche non sono gelose le cose le une delle altre meno che mai adesso che sicuramente stanno in paradiso godendo cioè anche questa è un'altra cosa bella tra noi i figli di Dio sono tutti quanti diversi ognuno porta le proprie peculiarità che il Signore gli ha dato all'interno della sua santa famiglia del suo corpo che era chiesa ma non ci stanno gelosie rivalità è meglio questo è meglio quell'altro ah no stiamo parlando adesso di Luisa Piccarreta non mettiamoci a parlare di altri mistici beh io sinceramente rispetto perché il rispetto è dovuto a tutti ma non capisco cioè io sono sicuro di quello che sto dicendo adesso ma Luisa Piccarreta sarà contentissima perché insomma Luisa Piccarreta sicuramente se vuole sente queste cose e dall'alti là i beati partecipano di tutti quanti gli attributi di Dio certo presumo io non è che ci sono mai stato insomma che Dio debba dare almeno un placet ma lo dico con molto imbarazzo sicuramente Luisa può sentire quello che io dico a proposito dei suoi scritti insomma se ci penso mi imbarazzano non poco però questo è allora di che cosa volevo dire un episodio molto commovente doloroso toccante significativo che si leggono gli scritti di Maria Valtorta nell'opera sul Vangelo ed è questo nella sua infinita bontà e misericordia sapete cosa fece Gesù risorto andò a trovare una delle creature più disgraziate nel senso più sfortunate potremmo chiamarle anche se questo non è un termine molto cristiano che sia mai esistita sul pianeta Terra una pena proprio da far strappare il cuore e sbriciolarlo in mille punti sapete chi è? la mamma di Giuda la mamma di Giuda sta pora donna sta pora donna che ha dovuto vivere con il peso di aver generato un diavolo uno che ha tradito il figlio di Dio uno che si è macchiato di decidi un dannato il dannato per antonomasia anche se qualcuno pure oggi ha lasciato perdere questi discorsi si mette a fare il salvatore di Giuda che il nostro signore stesso insomma non mi sembra che sia stato tenero nelle affermazioni fatte sul suo conto per carità ma certamente non era contento di farle ma la verità purtroppo quando è anche dura e sgradevole però bisogna dirla va beh va da questa madre di Giuda e sta pora donna stava che se poteva dare l'olio santo diciamo oggi no cioè sofferente fino all'inverosimile quindi un dolore immenso e Gesù l'ha fatto questa carità vedete la delicatezza che c'è il nostro signore e che c'hanno tutti i canti santi con lui è andato a trovare sta pora disgraziata che non c'entra niente con quello che ha fatto il figlio e a un certo punto dice guarda maestro sto dolore è immenso che posso fare io vorrei chissà andammi a nascondere tutte queste cose qui adesso si prendono un pochino con le molle perché i dettagli dell'episodio non li posso ricordare ma ricordo una cosa molto bene che Gesù gli ha detto guarda queste cose me le devi offrire queste sofferenze atruci me le devi offrire tuo figlio non mi ha dato nulla proprio così gli dice è tu per favore offri almeno tu qualcosa proprio la quinta essenza di quello che oggi stiamo meditando tuo figlio non mi ha dato nulla ecco perché ha fatto la fine che ha fatto se come vi esorto sempre a fare esorto sempre a fare chi condivide e ascolta queste cose poi deve evidentemente trasformarla in preghiera personale mettili davanti a Gesù e chiedigli ma io fino ad oggi che ti ho dato cosa ti ho dato ti ho dato qualcosa speriamo tanto io mi auguro che tutti voi siano dei grandi che possiamo fare a gara questa santa gara a chi ha dato di più al Signore queste sono le grandi gare che dovremmo fare ma senza invidia capito cioè semplicemente dice ma quello gli ho dato di più ma adesso gli ho dato qualche altra cosa che deve essere meglio di lui ma no non in questo senso questo è un senso brutto ecco è una santa gara nel senso che io sono contento cioè vedo le persone che stanno ascoltando la diretta sono circa una settantina di persone io sarei felicissimo se queste settantina di persone avessero fatto grandissime cose per il Signore se fossero più grandi delle mie mi rallegrerei immensamente per questo insomma con loro perché io sono contento che Gesù è contento Gesù è contento di queste cose certo poi c'è anche l'impegno perché ci fa certamente piacere se Gesù fosse contento di me mi vengono i brividi soltanto a dirle una cosa di questo genere perché mi sembra molto strano che vabbè credo che questo sia un sentimento condiviso se ci mettiamo a pensare ma Gesù sarà contento di me insomma a me viene la pelle d'oca insomma però sarebbe bello e quindi perché questo se si realizzi dobbiamo inventarci qualcosa quindi dobbiamo donare qualcosa al Signore poi nel mondo della divina volontà la fantasia si può scatenare nella misura più più grande quindi ricordando anche un po' tante cose belle che potremmo offrire al Signore e che sono espressioni della nostra personalità peculiare di quello che siamo noi il nostro modo di amare la nostra appunto capacità di amare il nostro dare no? quindi a me questa cosa me la data Francesco me la data che ne so Daniela me la data me la data Laura me la data Nicola me la data Elena e non altri è bella questa cosa qui il Signore diceva San Luigi Monfort applicandola alla Madonna dice che la Madonna per un uovo dà un bode insomma un uovo nei confronti di un bue e che cosa farà nostro Signore ma se l'ha detto lui nel Vangelo dice chiunque avrà lasciato quella mia cosa riceve cento volte tanto anche in questa vita insieme alla vita eterna bisogna tanto vivere questo qui certo se poi il nostro Signore si inventa qualcosa io ve lo auguro ve lo proprio auguro di vedersi circondati delle tante grazie rallegriamoci però in questa vita tutte quante quelle grazie sono sicuramente funzionali ad una fortificazione perché sta arrivando qualche botta di quelle che ce le ricordiamo e va bene così è anche giusto che sia così no? ricambiamo il molto ricevuto con la fedeltà al Signore quando dopo il tempo della consolazione e della grazia ci manda il tempo della prova per dimostrargli appunto quanto gli vogliamo bene quanto ne siamo grati e come dice Gesù nella seconda parte adesso c'è tempo di approfondirla perché la mia direzione di oggi come sempre dice questa è una grazia che è diventata nutrimento quindi che è diventata sangue della nostra anima l'ho fatta mia e sarà la mia forza quando poi dovrò restituire al Signore questi beni con la fedeltà nelle tribolazioni nella prova eccetera quindi la mia forza un grazie infinito anche oggi Signore Gesù per quello che ci doni ci portiamo i frutti di questa meditazione ripensando appunto a quelle tue massime del Vangelo che non sono altro che approfondite, spiegate in ciò che oggi ci hai detto e abbiamo meditato a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha o che crede di avere e a chi molto fu dato molto sarà chiesto a chi fu affidato molto poi sarà richiesto ancora di più nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria